Presentata ieri al Circolo Velico del Porto Turistico dell'Etna Marina di Riposto, la settima edizione della finalissima regionale del Rassegna, caro Mike, che è il mess che andrà in scena al Porto di Riposto sabato 29 luglio e che sarà dedicata quest'anno al ripostese Salvatore Natalello, scomparso tragicamente lo scorso 1 luglio. Caro Mike, che è intitolata alla memoria del grande presentatore, Mike, buongiorno, diventa una manifestazione sempre più strutturata e di prestigio, tanto che nel corso della presentazione il patron Michele Maccarrone ha annunciato che il prossimo anno la Kermesse approderà a Roma. Il 29 luglio perché è la finalissima del Caro Mike, che è iniziato quest'anno in gennaio presso il Teatro ABC di Catania, quindi poi al Teatro Segrillo di Cato di Gento, poi siamo stati a Giarre, al Cine Teatro Garibaldi, quindi a Palermo alla Fiera Campionale del Mediterraneo, alle Ginestre e quindi alla finalissima al Porto Turistico Internazionale dell'Etna il 29 luglio. Una Kermesse che è un contenitore di ragazze, le quali saranno attenzionate da un'altra giuria, quella del 29 luglio, e unitamente a quelle che già sono state elette nei versanti occidentali e orientali alla Sicilia, di cui ho fatto poco facendo, saranno attenzionate da un'altra giuria, quella della finalissima di Lidin Passarela, come ben detto tu, il 20 agosto al Lido di Nacosso di Giardini. Alla finalissima di riposto verranno assegnate le fasce Miss Pet Life, Miss Virgilio Calzature, Miss Bistro del Porto, Miss Ninfa e Miss Porto dell'Etna Caromaic. Quella del 29 luglio presentata da Ruggero Sardo, mentre quella del 20 agosto sarà presentata a Lido di Nacosso da Sara Barola, il penalista emissitario dell'anno scorso, e da Diego Cartabiano, che conduce a un bel programma anche a gustare Sicilia, molto seguito in tutta l'isola. Per quanto attiene al 29 luglio, avremo il piacere di un seguimento, di diversi seguimenti di spettacolo, che saranno messi in scena da Dendidano e Divagì, questi due personaggi, è una coppia splendida che già fa parlare molto di sé. Dobbiamo Sara Pistolo, questa cantante, una soprano a 12 anni, per bacche brevissima, avrei il piacere che venissi ad ascoltarla, la canterà o sole mio, io quando l'ascoltate me ne sono veramente innamorato comunque. Poi c'è un altro artista emergente di Catania, si chiama Gianluca Biglianisi, quindi abbiamo l'attleta campione mondiale di kickboxing, Alessio Quattrocchi, e abbiamo anche una scuola di danza, Gli Di Giampaolo, si chiama Bellegi Artari, di riposto. Comunque lo spettacolo è assicurato, ci saranno tante belle ragazze, che vivranno da più parte della Sicilia, ho avuto a meno che in questo momento parecchie adessioni, parecchie richieste di partecipazione e questo per me è un onore e anche un prestigio poter attenzionare nel mondo della bellezza queste ragazze che vengono da più parte della Sicilia.